Come sappiamo o immaginiamo, fare da CEO o amministratore delegato è un lavoro estremamente complesso. Purtroppo non esiste nessun libro o almanacco che ci possa spiegare come svolgerlo in maniera adeguata. Il libro di cui parliamo oggi però è forse ciò che ci si avvicina di più, scritto da Matt Mockery, che d'ora in poi chiameremo semplicemente Matt, che è stato un grande coach e mentore per tanti CEO della Silicon Valley in aziende come Grammarly, Reddit, Twitch e molte altre. Cileggina sulla torta, questo libro è disponibile per tutti gratuitamente su Google Doc, quindi il compito mio in questo video sarà semplicemente quello di darvi alcuni spunti e alcune cose azionabili che sono all'interno di questo libro per poi convincervi a leggerlo tutto e cercare di comprendere il più possibile. E se state pensando che questo video non fa per voi perché non siete o non puntate ad essere amministratori delegati di nessuna azienda, non vi preoccupate, io sono nella stessa vostra identica situazione, ma mi è stato molto utile nel momento in cui mi sono ritrovato a gestire dei team e penso che questi insegnamenti possono essere anche utili a contributori individuali all'interno di aziende che però cercano di diventare più efficienti, più produttivi e magari anche di crescere all'interno dell'azienda. Ci sono vari aspetti in cui si divide questo libro che girano intorno alla figura dell'amministratore delegato e di come deve e può strutturare la sua giornata e la sua azienda. In particolare si comincia con una guida su come lanciare un'azienda e creare il team, poi quali sono le abitudini personali che un amministratore delegato dovrebbe o potrebbe adottare per migliorare la propria giornata, la propria produttività, la propria concentrazione che come andremo a vedere sono elementi fondamentali per il funzionamento della persona e quindi di conseguenza anche dell'azienda, quali sono invece i rituali da seguire con il proprio team, come strutturare meeting, come fare in modo che questi diventino più efficaci e poi quali sono strumenti che potete utilizzare per gestire l'azienda sia a livello burocratico che a livello pratico, mettiamola così, e infine ma non meno importante ci dà tutta una serie di risorse e come dire strumenti utili che ci possono aiutare nel nostro percorso. Quindi seguitemi in questo viaggio in cui vi parlerò di due o tre aspetti di questo libro che secondo me sono particolarmente interessanti, sono cose che potete iniziare a fare da domani, di nuovo molto azionabili, e poi alla fine potete andare in descrizione, aprire il link e effettivamente cerco di tutto quanto il libro, che tra l'altro se volete è disponibile anche in forma fisica su Amazon o come audiobook su Audible. Il primo esercizio da questo libro che voglio condividere con voi è quello dell'audit dell'energia, che so che suona strano, suona banale, suona naive, ma in realtà è molto molto interessante. Io da founder di una startup ho sentito 50.000 volte le persone parlare dell'importanza di delegare, l'importanza di concentrarmi sulle cose che faccio bene, che mi energizzano, però sono caduto in questa trappola e ho visto tantissime altre persone fare la stessa cosa, quindi ci tengo a mettere l'accento su questo esercizio perché lo ritengo molto facile, molto azionabile e è una cosa che è estremamente importante, specie per persone in posizione di leadership. Quando guidate un team, quando guidate un'azienda, dovete dettare la visione, è importante che voi abbiate tanta energia, energia da spendere e da usare nelle cose che sono importanti e nelle cose che fate bene. Quindi la cosa che suggerisce Matt, il nostro amico, è quella di dare un'occhiata al vostro calendario, se siete amanti della carta e non vi piacciono gli alberi, stampatelo e in base all'attività che voi avete segnate su quel calendario, cercate di evidenziarle magari in rosso per cose negative che vi tolgono energia e in verde invece per cose positive che vi energizzano, che vi danno in certo senso vigore e quando cominciate a notare delle cose che si ripetono su base giornaliera, settimanale, cercate di delegare appunto questi aspetti a qualcun altro. Ripeto, è un concetto semplice se vogliamo, ma specie per persone che si ritrovano a gestire altre persone è veramente facile che questi elementi entrino nel vostro quotidiano e magari a volte si è presi dalla foga di fare cose e ci si dimentica che ogni task che noi facciamo ha un peso cognitivo su poi quella che è anche la nostra magari volontà di fare cose alla fine della giornata, no? Quindi ci continuiamo ad appesantire di piccole cose che magari ci danno fastidio senza accorgersene perché c'è anche questa retorica del lavoro continuo e diciamo iterato, ma poi a fine giornata magari non riusciamo a fare altre cose importanti che sono state rimandate perché non abbiamo più la forza cognitiva di farlo, il nostro cervello ormai non ce la fa più e vuole semplicemente rilassarsi. Aggiungo una nota su questo aspetto che è legata al time blocking. Time blocking per chi non la conoscesse è una pratica per cui voi andate sul vostro calendario e cominciate a creare degli eventi per dei task che volete fare. Quindi se so che oggi voglio fare la campagna marketing per il lancio di un nuovo prodotto, allora andrò all'interno del mio calendario, cercherò gli spazi dove non ci sono meeting o diciamo altri eventi particolari con altre persone e comincerò a segnarmi. Ok, magari per 45 minuti scrivo l'email, poi ci sarà un meeting, dopo il meeting per un'ora comincio a creare i post per i social media, insomma dipende chiaramente dai tipi di task che voi dovete svolgere, ma la ritrovo, la trovo un'attività estremamente utile per tenermi concentrato. Chiaramente non è scritta nella pietra, potete sempre cambiarla, modificarla man mano che poi arrivano cose all'interno della giornata da collaboratori, da dipendenti. Ma ecco è un esercizio secondo me molto utile, specie alla mattina vi dà un'idea chiara di quello che dovete fare quel giorno, anche quando farla. E per esempio c'è una startup italiana chiamata Akiflow che ha fatto un prodotto che vi aiuta in questo processo di appunto creare un time blocking. Vi lascio il link in descrizione, il mio referral normale, semplicemente se non sbaglio voi prendete un mese gratis e anche io. Quindi se volete dare un'occhiata a questa idea assolutamente andate avanti e ora parliamo invece del secondo aspetto, del secondo esercizio all'interno di questo libro. Quando prendete decisioni in gruppo fate estremo affidamento sulla forma scritta. Ci sono centinaia e centinaia di meeting fatti a voce che vengono persi nel nulla ogni giorno, ogni ora e questo è un problema enorme. Quindi Matt è un grande fan dell'approccio di Amazon. Per chi non lo sapesse Amazon comincia i propri meeting in silenzio, almeno quando si tratta di cose magari a livello di strategia e nei primi 5-10 minuti si leggono documenti scritti che riguardano appunto l'argomento del giorno. Ci sono delle persone incaricate di scrivere questi documenti e si cerca di, come dire, limare tutto quello che c'è da limare il prima possibile, prima che il meeting avvenga, in modo che poi la parte di discussione sia la più produttiva possibile, in modo che le persone non arrivino impreparate alla riunione, in modo che tutti quanti siano aggiornati su quello che avviene, per questo si inizia in silenzio e si legge insieme. Ed è una pratica, secondo me, molto interessante, chiaramente in alcuni casi difficile da attuare, ma magari seguirla in maniera religiosa può essere un vantaggio per la vostra azienda. Va un po' imposta perché chiaramente non risulta naturale. Per chi volesse approfondire l'argomento c'è un libro molto molto interessante chiamato Working Backwards che riguarda tutta quanta la storia di Amazon in realtà e come Amazon funziona. Anche questo ve lo lascio in descrizione. Ma in questo libro semplicemente Matt vi dà una guida su come potete implementare questo tipo di ragionamento all'interno della vostra azienda e chiaramente quali sono altri vantaggi. Quindi non solo sapete che i meeting sono più produttivi, ma nel momento in cui poi questi vengono documentati in maniera ottimale, le decisioni rimangono scritte su pietra. E questo vi interessa sia per avere un allineamento tra i team, molto spesso, specie in startup che magari hanno team molto indipendenti tra di loro. Succede che una persona rema da una parte, una rema dall'altra e questo è un problema enorme. Ci sono tantissime decisioni in una startup che porterebbero a risultati molto simili, almeno a livello potenziale, ma la cosa importante è semplicemente allineare tutti in modo che si remi, si navichi tutti nella stessa direzione. Perché se si comincia a navigare troppo a destra e troppo a sinistra poi si rimane bloccati o si spregano energie. Quindi se volete approfondire questo aspetto, c'è il capitolo 10, mi sembra, del libro The Great Sea of Within. Io vi ringrazio per aver seguito questo piccolo video di raccomandazione. Vi ricordo che il libro è disponibile gratuitamente in descrizione. Ve lo consiglio altamente perché è stato un libro importante e interessante per me. Anche i contenuti di Matt sono molto utili, carini. Non pubblica tantissimo in realtà sui social, ma assolutamente ve lo consiglio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!